È veramente una grande opportunità per noi artisti emergenti, perché quelle cose che abbiamo vanno valorizzate e gli artisti sono una di quelle. Beh, questa sera porteremo un messaggio di spiritualità, positive vibes, tanta buona musica, tanta reggae music. Il progetto è un progetto che parte quattro anni fa dalla cameretta dei miei nonni, mi registravo tutto quanto da solo. E adesso sono qui con un bel team alle spalle che mi supporta, ci supportiamo, siamo fratelli. Quindi give thanks, siate sempre spirituali. Ragamatti sei so, Ruti Calfam sei so. Ciao. Questo contest per me è molto importante perché specialmente hanno dato la possibilità a vari artisti di esibirsi con vari generi. Nel mio caso è un genere molto estremo che a Catanzaro purtroppo non c'è terreno fertile e io comunque sono convinto del mio progetto e lo voglio portare avanti. Quindi credo in quello che faccio. Cosa suoni? Suono la chitarra ma sono anche un po' l'istrumentista, canto, suono anche il basso e anche la batteria. Però lo strumento da cui ho iniziato a suonare è la chitarra. Che genere, con che genere ti esibisci stasera? Melodic death metal. È stato un piacere per noi, grazie al comune, grazie all'Accademia che ci ha coinvolti, partecipare a questa rassegna, quella di Estarte. Abbiamo portato un contributo, lavorato insieme all'Accademia, che è quello del Clash of Paints, questo particolare contest per artisti. Abbiamo appena terminato la preselezione, la continueremo nella serata e siamo in grande attesa dei nostri quattro artisti selezionati e dei nostri giudici. Il verdetto lo daremo dal palco e vediamo chi affronterà la fase finale del nostro Clash of Paints. Sicuramente buona la prima per i nostri ragazzi. Come sapete da sempre, per me, la cosa più importante che io vorrei realizzare è dare lo spazio ai nostri giovani. E quindi questo spazio gestito dai ragazzi, che si esibiranno sia con la musica sia con le arti figurative, per me è un fatto importantissimo. Penso che la città debba essere accogliente nei riguardi delle nuove generazioni e quindi questa cosa è un omaggio all'oro, fatto con l'oro e per l'oro. La serata è importante perché ci sono 38 proposte e quindi è bellissimo scoprire tutti i talenti locali. E da parte mia l'obiettivo è quello di trovarne qualcuno per poi magari portarli anche nelle altre città in cui operiamo con Open Stage per far avvenire uno scambio culturale di crescita per i ragazzi. La storia di questa serata è, come diceva Ugo, è la predominanza della musica sulla serata. Il fatto che comunque tutti quanti siamo ad aspettare le nuove leve di quella che è la scena musicale catanzarese e non solo. Quindi presumo che stasera ci divertiremo tantissimo e anche domani perché le proposte sono veramente tante. Questa serata, per quanto mi riguarda, è appunto dare spazio ai giovani. Io rappresento il Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro, non c'è l'Ottarinese. Quindi a Catanzaro c'è la possibilità di offrire anche formazione per quanto riguarda la musica pop. Ormai la musica pop, come la musica popolare, rientra negli studi accademici che è possibile affrontare appunto in Conservatorio. In ogni caso dare spazio ai ragazzi risulta essere estremamente prezioso perché hanno bisogno di posti dove sfogare proprio e far vedere le loro capacità, che sono veramente tante e sono veramente interessanti.